Il Centro Congressi della Regione Piemonte ha ospitato il convegno Politiche Giovanili in Piemonte, un piano per il rilancio, a pochi mesi dall'approvazione del piano regionale. Prossimi obiettivi, aumentare la partecipazione dei giovani alla vita attiva, anche attraverso la rigenerazione di edifici abbandonati, con l'aiuto delle comunità più innovative e l'apporto determinante delle start-up. Illustrato anche il sistema informativo regionale per le nuove generazioni. Vogliamo portare la nostra esperienza come ente, nella quale ci siamo distinti per coinvolgere tante associazioni, tante realtà del territorio, rivolgendoci non solo alle politiche giovanili, ma anche all'ambiente, al lavoro, alla formazione professionale, alle start-up. Abbiamo contraddistinto la nostra attività nel rivolgerci a tutte le realtà possibili della società, cercando di ricavare del buono per i giovani in ciascun settore. Siamo qui per portare questa esperienza, sperando che sia utile all'assessore nel ridefinire le politiche giovanili in Piemonte.